In questi giorni mi sono reso conto che ormai innumerevoli volte ho detto in questi giorni e che già due volte mi sono riferito ad alcuni video con la parola perplesso Bene, siccome non c'è due senza tre penso ci sia ancora un video che si merita questo attributo Il nome di questo video è Bordello Sì in questo momento stiamo pensando tutti alla stessa persona No niente noi siamo arrivati e c'era un bordello e tipo eravamo in mezzo al corteo, casino hanno spaccato un po' di robe così Oppure anche Ehi 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 Cosa è sta storia? Non è un video ma una foto con il VX Mmm, ma che lingua è, soprattutto? E poi, Yoda. Ho capito che sono in tema con il settimo film di Star Wars in uscita nelle sale verso metà dicembre, però... Io non ho ancora capito niente. Se qualcuno comprendesse mai il significato del testo, per favore, mi scriva. Ciao!